Qualcuno ti piange ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un segreto e del suo ego. Allora, c'è qualcuno, vediamo se c'è qualcuno che ogni giorno piange, diciamo così, piange il fatto che magari ti sei allontanato o sei allontanato, o sei allontanato lui a causa di un segreto, magari aveva un'altra situazione, non sappiamo, oppure del suo ego. Vediamo un attimino di capire se c'è questa situazione e in quali termini si manifesta. Quello che devi fare è scegliere o il Buddha, o la piramide, o la stelle. Quindi scegli o Buddha, o piramide, o stelle. Inizio a togliere la piramide e la stelle e partiamo dal Buddha. Partiamo dal Buddha e iniziamo con gli arcani maggiori dei tarocchi. Qualcuno ti piange ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un segreto e del suo ego. Vediamo un attimino com'è questa situazione. Qualcuno ti piange ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un segreto e del suo ego. Allora, mescoliamo le carte. Qualcuno ti piange ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un segreto e del suo ego. Allora, mescoliamo le carte. E andiamo a cercare di capire. Tagliamo, giriamo e vediamo un po'. Allora, che dicono le carte maggiori dei tarocchi? Beh, c'è stata una brusca rottura. Una rottura, diciamo, che ha interrotto di colpo la relazione. È stata veramente un qualcosa di repentino. Questa persona ha cercato di manipolarti. Quindi non è proprio un manipolatore, non è proprio un narcisista, perché poi il diavolo è uscito, ma al contrario. Quindi perde un attimino di forza, perde un attimino di energia. Però sicuramente è una persona che l'ha fatto a fini manipolativi, non a fini, diciamo, positivi. Ed è comunque una persona che nascondeva qualcosa. Sicuramente ti ha tenuto nascosto qualcosa e quindi siamo nell'ambito del segreto. Vediamo, cerchiamo di capire qual è questo segreto. Ora, cerchiamo di capire se c'è stato un pentimento e se si è ravveduta la situazione. Utilizziamo i tarocchi Zen di Osho per approfondire un attimino il dettaglio di questa situazione. Questa persona che ha avuto questo allontanamento, diciamo così, repentino. Che si è manifestato in modo repentino. Facciamo uscire questi. E passiamo ai tarocchi Zen di Osho, tagliamo. E andiamo a vedere. Qualcuno ti piange ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un segreto del suo ego. Allora, è una persona che ha vissuto con intensità un'altra storia. Quindi ha avuto una relazione intensa con un'altra persona. Un amante. E quello che l'ha allontanato da te è stato proprio un amante. Che poi è diventata, diciamo così, una persona con la quale pensavo di poter costruire qualcosa. Il tutto però gli ha causato delle perdite di natura economica. Si è trovato un po' nelle problematiche finanziarie. Questo potrebbe essere la causa del pentimento, diciamo, di essersi allontanato da te. Probabilmente ha trovato qualcuna che in qualche modo è riuscita a frigargli dei soldi, non so. O comunque si è trovato in questa difficoltà. Vediamo un attimino. E quindi il pentimento è dovuto proprio a quello, non tanto a un amore, diciamo. Vediamo di approfondire ancora utilizzando... Utilizzando gli oracoli. Gli oracoli dei registri acascici. Vediamo di approfondire ancora utilizzando gli oracoli dei registri acascici. Mescoliamo le carte. E vediamo cosa ci dicono in più gli oracoli dei registri acascici. Qua le informazioni aggiuntive possono provenire dagli oracoli dei registri acascici. Allora, tagliamo e andiamo a vedere un attimo quali sono le informazioni aggiuntive. Beh, sicuramente una persona che ha avuto un pentimento e ha cercato di fare un percorso, diciamo, anche di miglioramento, di crescita spirituale, è tornato alla natura, è tornato alle tradizioni. Non, diciamo, probabilmente viveva un po' sopra le righe. Quindi è tornato a una vita più regolare. E sta cercando di approfondire un attimino anche con se stesso. Quindi è una persona che comunque sta cercando di rimettersi in careggiata, però da lì a dire che in qualche modo fosse innamorato di te, comunque ce ne passa. Più che altro è stato un po' il vuoto. Si tratta di vedere un attimino quello che succederà, prendi il tuo tempo, non fare niente e vedi come si comporterà questa persona prossimamente, diciamo così. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il Buddha. Facciamo uscire il Buddha, facciamo entrare la piramide, perché ha scelto la piramide. E adesso riprendiamo, riprendiamo e vediamo un attimino per chi ha scelto la piramide. Allora, riprendiamo gli arcani, maggiore dei tarocchi, mescoliamo. Qualcuno ti piange ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un segreto e del suo ego. Mescoliamo le carte. Qualcuno ti piange ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un segreto e del suo ego. Mescoliamo le carte e vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Qualcuno ti piange ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un segreto e del suo ego. Allora, mescoliamo. Ricordo che le stese sono varie nel momento in cui vengono viste, ma nel momento in cui vengono fatte, in quanto ovviamente i tarocchi sfruttano proprio la sincronicità. Tagliamo, giriamo e andiamo a vedere cosa ci dicono gli arcani, maggiore dei tarocchi. Allora, è una persona che l'ha fatto per orgoglio, in qualche modo, proprio in questo caso per il suo ego. Si è sentito vincente, si è sentito forte. È una persona che ha fatto un'azione così, d'impulso. È una persona che vive in modo impulsivo, però non è una persona che può dare una grande stabilità, da quel punto di vista lì, e ha avuto anche un giudizio negativo nei tuoi confronti. È stato un po' sprezzante, diciamo così, ti ha trattata non bene. È stato molto sprezzante e quindi ha avuto questo allontanamento repentino anche per questo motivo. Cerchiamo di approfondire utilizzando i tarocchi zen. Vediamo cosa ci dicono in più i tarocchi zen. Vediamo che ci dicono in più i tarocchi zen di Osho. Mescoliamo. Caliamo, giriamo e andiamo a vedere un attimino. Facciamo uscire questi. Ok, vediamo un attimino che ci dicono i tarocchi zen di Osho. Allora, è una persona sicuramente che ha una grande carica, una persona con carisma, che vive impulsivamente, quindi è una persona molto impulsiva. Anche questa scelta è stata fatta veramente in modo impulsivo, da un momento all'altro. Ed è una persona pulenta, diciamo, che gode reccia, che vive nell'abbondanza, una sua situazione, quindi diciamo che probabilmente non ha un vero pentimento. Anzi, adesso poi vediamo qual è la motivazione, se c'è una motivazione per cercare un riavvicinamento in qualche modo, insomma. Cerchiamo di capirlo utilizzando l'approfondimento degli oracoli del regista Akashishi. E vediamo cosa ci dicono in più gli oracoli del regista Akashishi. Qualcuno ti piange ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un segreto e del suo ego. Allora, vediamo cosa ci dicono in più gli oracoli del regista Akashishi. Allora, tagliamo. Ricordo che le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, mai nel momento in cui vengono fatte, proprio perché sfruttano la sincronicità. Allora, beh, è una persona comunque che è integrata, non dimostra, diciamo, pentimenti, diciamo. Quello che, probabilmente le cose ci sono andate storte, quindi un po', come dire, contrariato, ma sono fatti del suo karma, quindi la sua contrarietà è dovuta un po' a quello che ha fatto, quello che ha messo in atto. Con te vorrebbe ricuperare un'amicizia, non niente di più, per motivazioni sue personali, comunque probabilmente si è pentito di aver espresso un giudizio negativo in questo modo e quello che va alla ricerca è soprattutto un'amicizia, niente di più. E vediamo un attimino, quindi facciamo uscire la piramide, facciamo entrare la stele e quindi nel caso precedente, appunto, vedi tu cosa fare, insomma, come portare avanti la situazione. Allora, vediamo di ripristinare il tutto e partiamo, partiamo dagli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo come ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Qualcuno ti pianga ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un suo segreto e del suo ego. Quindi mescoliamo le carte. Qualcuno ti pianga ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un segreto e del suo ego. Qualcuno ti pianga ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un segreto e del suo ego. Quindi mescoliamo le carte. Tendiamo, giriamo e vediamo cosa ci dicono. Allora, è una situazione che è già partita male dall'inizio probabilmente ha avuto un inizio non buono non positivo e è partita in modo traballante ed è finita peggio di come poi è iniziata diciamo così con una rottura secca per un probabilmente un'altra donna o comunque un ostacolo qualcosa che ha messo il basso dentro le ruote probabilmente per un'altra situazione un'altra persona che aveva già in essere perché rappresenta anche il tempo quindi una persona che c'era già nella sua vita quindi tu eri praticamente il secondo la seconda scelta fondamentalmente diciamoci la verità cerchiamo di approfondire se c'è stato un pentimento o qualcosa qualcuno ti piange ogni giorno per aver rovinato tutto a causa di un segreto e del suo ego vediamo un attimino cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi scusate i tarocchi zen di Osho mescoliamo tagliamo e andiamo a vedere allora sicuramente aveva un sogno d'amore questa persona ma non con te diciamo così e infatti vive aggrappato al passato quindi questa storia era già presente prima di te e in qualche modo tu sei subentrata ma sei stata una specie di chiodo schiacciachiodo che però è durato poco e questo l'ha portato cioè la consapevolezza anzi tu l'hai facilitato diciamo la presenza di quest'altra persona perché l'hai portato diciamo paradossalmente alla consapevolezza del fatto che era comunque legato a quest'altra persona in modo viscerale diciamo cerchiamo di capire cosa ci dicono in più i tarocchi gli oracoli dei registi acacici vediamo cosa ci dicono di aggiuntivo gli oracoli dei registi acacici andiamo a vedere gli oracoli dei registi acacici se ci dicono qualcosa oppure no vediamo gli oracoli del registi acacici cosa ci dicono in più allora tagliamo allora è una persona che mette molte energie una persona che è molto energetica che ha comunque delle sue capacità diciamo e quindi da questo punto di vista è una persona forte dal suo punto di vista è anche una persona con un animo puro solo che aveva questo rimasuglio del passato non l'ha fatto con cattiveria e questo gli ha portato probabilmente un pentimento per averti causato dolore perché lui comunque di fatto lui o lei insomma è comunque una persona buona tra virgolette ha fatto tutto questo perché è trascinato da impulsi ma il pentimento c'è stato proprio per averti arricchato dolore ed è una persona che comunque va alla ricerca di una famiglia va alla ricerca di una situazione stabile per cui da questo punto di vista possiamo dire che non è assolutamente una persona negativa devi cercare di capire un attimino che cosa vuole non vedo una grande diciamo un grande innamoramento da questo punto di vista quindi una persona che però se si liberasse dal passato potrebbe rivederti in una modalità diversa e questo potrebbe portare diciamo un miglioramento bisogna solo attendere soltanto il tempo e le possibilità ci sono anche comunque attendi e vedi quello che succede bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like condividere con i tuoi amici iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo che se vuoi diciamo se il video ti è piaciuto sotto ogni video c'è una un cuoricino puoi fare una piccola donazione al canale